Ti è benvenuti in un nuovo video di Brawl Stars Guarda, non sto più nella pelle 87 casse Mi scrivo a Giacomo Oh, ho messo Oh, Dio, 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 Dio Allora, facciamo prima una partita Come voglio scrivere Prima No, forse sono uscito anche Sono sopravvirenza Dai, dai Ho giusto Già di me, era un giusto Questo Ok, ok Ok Bella lega Dai, dai Scusate ma Non sopravvirenza Dai E basta scrivere E gioca Oh, ho fatto Pronto, finiamo Scusate, sono andata Non sopravvirenza Per cosa Eh, non sopravvirenza 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 Oh, attenzione Attenzione No, no, no Giacomo Giacomo, Giacomo Vieni Vieni, vieni, vieni Vieni No, non piusciamo Eh, no Non sopravvirenza Vado Sbagliando Non voleva la pena Però comunque Basta che viene Poverata Giacomo Perché Basta che ha tolpiti Sono starzissimi Oh, ho il dorso verde Stima volta Dio Dai, dai, dai Prendi, vai Prendi, vai Prendi poi Corri, corri, corri Ha preso Vai, vai, vai Vieni, vai Vai, vai Vai, vai No, no ma dove come sto schivando vai no vabbè comunque secondi non male non male iniziamo ora iniziamo con ok ci risiamo iniziamo iniziamo con lo slot andiamo mi sto sentendo malissimo guarda oddio 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 sto sudando tantissimo il cuore ha mille ragazzi voi non potete immaginare la tensione oddio oddio spero di trovare più di un brawler mamma mia oh caricamento spero di trovare almeno più di un brawler almeno chiedo questo ok ora iniziamo con la prima cassa e nonno vai vai ti skip va bene va bene va bene va bene va bene ora 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 dai oddio finora beh dai non ci scoraggiamo potremmo trovare sicuramente cose migliori comunque quant'è già mi sto 62 gg gg si iniziamo 64 passi ora quando siamo a 60 scusate faccio un po' cavolo così oddio 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 cassa e no no si mi confondo sempre premio gratuito dell'evento riscattato cosa che cosa aspetta aspetta cosa significa tutto questo cioè ma non ho capito cioè scusate ma sembra un nabbo così ma oddio 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 andiamo bene dai scriviamo ancora niente ancora niente ah lui se n'è andato giacomo no no boh boh va bene boh eh mi dispiace ma giacomo se n'è andato sicuramente ritornerà ma noi continuiamo 12 gemme 12 gemme a caso così oddio ok miglioramento sbloccato oddio quanto sto sudando no se non trovo niente no c'era ok ora andiamo di cassa enorme ancora niente va facciamo veloci 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 già sto postendo 6 minuti e 35 dai giacomo mi dispiace molto che se n'è andato eh dai eh ho qualche impegno sicuramente dai qualche brodo lo troverò sto sto morendo come un cane non lo so dai vai ancora niente no perché io mi sto spaventando nel senso spaventando non so 50 casse ancora sono tante 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 tantissime ragà 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 oddio sta battendo il cuore cortissimo ancora niente va bene io devo andare in bagno non ce la fa oh 200 raddoppi aggettoni bene io mi stupisco tipo mi stupisco di niente quando ho trovato il primo ho cominciato a durare come un pazzo cioè come un pazzo no però ancora 200 vabbè sto tremando io sto tremando lasciamoste due casse enorme alla fine quanto è 38 io mi sto letteralmente spaventando dai più di un brawler volevo non vanno manco uno cioè sto male no 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 se andiamo avanti così no 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 così no oh sto tremando sul serio sul serio sto tremando brawler esci dai dai nuovo brawler chissà chi sei oh ancora niente sul serio sto tremando oh 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 no 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 se non esce niente io sto no 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 qualcosa deve uscire assolutamente in 80 casse 80 no 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 vabbè non è detto che non uscirà niente non è detto dai non è ancora niente ancora niente ancora niente no barrel non l'ha portato bene allora proviamo con non lo so scegli scegli pan bull usiamo caso caso così metti cazzo dai vai 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 ci uscirà ci uscirà qualcosa ci uscirà ci deve uscire non ha fatto niente dai perché ci metto così a caricare dai 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 quindi ancora 14 cazzo speriamo dai no se non trovo niente sto male 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 cioè comunque se trovo un brawler io oh è tornato giacomo è tornato è tornato ecco qua ok ancora niente 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 uff dai ce la dobbiamo fare dobbiamo trovare qualche brawler dobbiamo fare dobbiamo ci devo riuscire no 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 ci devo riuscire basta ancora la doppia giottone e dai dai no 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 non è possibile Non può Ancora Dai Cioè dobbiamo fare Cioè Forse lui aveva capito Che sono finite le casse E che non abbiamo trovato Un brawler Ma in 80 casse Come si fa A non trovare Un brawler Eh no Ora devi uscire E se ne è andata ancora E se ne è andata ancora Questa qua E poi Cioè Ultime tre Oddio Mi è ritornato Giò Vabbè ancora Tre gemme Intanto 91 gem Raga Io Finora sto Tipo piangendo Però Cioè non sto piangendo Dai Dai Aspettiamo Aprimi Ultimo salto E dai E dai 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 Ci deve uscire Ci deve uscire qualcosa Raga No 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 Ultimo Ultimo No 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 Raga Non è uscito Ancora niente Non è possibile Guarda quanti brawler Mi mancano Tutti questi Ah Cioè penso Mi aspetto un po' di più Però Frank Bibi Bea Cioè non potevo Trovarla almeno Non lo so Frank Bibi Cioè Bea Vedete Ora non esce niente L'avevo detto Vabbè Spero comunque Che il video Vi sia piaciuto E Sono rimasto Molto Ma molto 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 Deluso E no Io non mi voglio Fermare qua Voglio fare una partita Voglio fare una partita No Voglio Una Partita E Un'ultima Cassa Cioè io mi aspettavo Tipo tre brawler Come l'altra volta Se non avete visto il video Lo dovete vedere No Cioè Dobbiamo giocare Dobbiamo giocare L'ultima cassa Se non ci esce niente Siamo sfigati Cioè sono sfigato Oddio Io non ci sto credendo Non è uscito Un brawler Uno No Cioè io sto male Questa qua La dobbiamo Cioè Dobbiamo almeno Fare una cassa Con l'ultima partita Cioè Raga Io mi sono Cioè Sono molto Ma molto Molto Deluso Sul serio Io mi aspettavo Un brawler Nuovo Non lo so Non ho vitale Niente La sfida No No Qua ci vengono a pushare Prendiamo questa partita Qua Concludiamo In bellezza C'è C'è Vabbè Prendi power up Eh Se ne va Lo venghiac Ok Vediamo Se riusciamo A pushare In questo modo Qua Tattico Oppure Se riusciamo A prendere Il robot Ecco qua Sto nab E Ecco C'è Sto nab C'è Me lo prego Guarda Me lo prego Io non lo prego Qua Ma Ma Cosa La logica Di brun Cosa C'è Tutto normale In una partita No Non mi di che corre pure Addio 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 No No Fk No No Dai Fk Partita Una schifezza Una schifezza Oggi sfortunatissimi Sfortunatissimi Oggi proprio sfortunati Io mi faccio una partita da solo Mi dispiace raga Però Qua Faccio una partita con Jesse a caso così me lo miglioro pure Addio raga A me mi dispiace un brotto Dai Ma quasi Quasi sciopperei Poi Venuto Giacomo Dai Giochiamo Giochiamola Giochiamola Dai Almeno Una 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 L'ultima cassa Deluso 100% Scusa se sto video qua sta durando tantissimo Ma Comunque non troverò niente Vabbè Qua Testolina sta allagga troppo Quindi Ne faccio una da solo E Concludiamo così Devo andare in bagno io No C'è C'è Io mi aspettavo un video Più Non lo so Dove trovavo Brawler Eh Mi dispiace Mi dispiace Raga scusate per sto video qua che Ha finito proprio male 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 C'è un no no un brawler no ma c'è manco a dirmi che mi usciva uno scarso non lo so O forse Oh Attenzione Mettiamo una torretta No qua no perché è arrivata No Eh vabbè Devo andare nel circuito Non c'è andata E quindi va bene E scatta E scattate tutti Oh ok È il numero uno E grazie Una maxiglia qua Intanto Le proiette rimbagano Torretta fa il tuo lavoro Attenzione Attenzione Piano Che qua Stiamo in una situazione C'è 13 paura Eh C'è Diciamo che sono sufficiente C'è Solo questo Oh Sta maxiglia qua Sei imbazzita Sei imbazzita C'è Non me la fai Aiuto 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 Non andrà Non fissare la torre Che non fissare E qua sono morto Siamo Sono morto Si arriva pure questo Mi scassa Guarda lui Bombe 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 Bom 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 Controfinale Concludiamo Così E bella raga Ecco qua Speriamo che in questa Ultimissima cassa Ci uscirà qualcosa Beh Diciamo più di una cassa Ok Ci avanza una cassa Apriamole E non ci uscirà niente Ecco così Il video È stato Uno schifo E bella Video Quasi Finito Eh raga Eh raga 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 Un saluto Da Testolina E perché Ho messo in pausa Non lo so io Le casse Tutte Un Fico Secco Tutte un fico secco Eh raga Aspettate Forse posso Raga Che Eh si raga Mi è cresciuto Blue Stars Ah E volevo farvi Un bello scherzetto Ecco qua Che ho trovato Leon Magari E ragazzi Il video Finisce qua Se vi è piaciuto Lasciate un like E ci vediamo A un prossimo video Ciao Ciao ragazzi